Musica Benvenuti alla puntata numero 25 di Wisp Magazine ed è un piacere ritrovare in studio Tiziano Pesce Benvenuto Tiziano Grazie Mare, grazie, buongiorno a tutti Piacere mio come sempre Primo giovedì utile genovese, sono tornato Anche perché i tuoi compiti di membro della Presidenza nazionale ti portano spesso in giro per l'Italia Presidente regionale di Wisp Abbiamo tante bellissime immagini quest'oggi e tanti argomenti di cui parlare a partire da un'iniziativa che abbiamo seguito settimana scorsa il Calcio a Storie e cominciamo proprio a vedere qualche immagine girata al Liceo Lanfranconi di Genova con De Maillot e Duncan testimonial di un'iniziativa interessante a livello nazionale Sì Mare, grazie proprio così Per noi è un progetto molto importante il Calcio a Storie lo dicevi, lo avete documentato ampiamente già la scorsa settimana proprio il giorno dello svolgimento dell'iniziativa con le vostre telecamere, i microfoni rappresenta il vostro Beppe Nuti che ringrazio un progetto che vuole diffondere sostanzialmente tra i giovani, gli studenti degli istituti superiori in questo caso l'istituto genovese coinvolto è il Liceo Lanfranconi la succursale di Sestri Ponente vuole diffondere appunto la cultura dell'integrazione e della tolleranza attraverso lo sport attraverso il calcio era presente con appunto De Maillot e Duncan il direttore marketing diritti audiovisivi della Lega Calcio di Serie A Team Fabio Santoro perché questo progetto è portato avanti dal WISP con il sostegno della Lega Calcio Serie A Team un progetto che è sostenuto dal punto di vista diciamo finanziario dalle ammende che la Lega Calcio Serie A diciamo destina a questo progetto le ammende ricevute da appunto sanzioni combinate a società giocatori per episodi di discriminazione ovviamente l'augurio è quello che da un lato non ci siano episodi di questo tipo però in questo caso ecco dal punto di vista della Lega Calcio di Serie A un progetto importante davvero preziose le testimonianze dei calciatori che hanno come dire che sanno ovviamente comunicare molto bene direttamente con i ragazzi De Maillot ha voluto ribadire quanto i calciatori abbiano una grande responsabilità nei confronti dei giovani proprio come modelli da seguire e anche Duncan ha sottolineato quanto la scuola davvero sin dalla giovane età sia fondamentale per trasmettere ai ragazzi e ai figli che sostanzialmente le diversità esistono ma sono un valore aggiunto è importante davvero questo incontro a cui ha partecipato anche Matteo Marani direttore dello storico Guerin Sportivo che è l'autore del libro dallo Scudetto ad Auschwitz che poi ha appunto ispirato un vero e proprio film che ha realizzato Sky che è stato proiettato e che è dedicato sostanzialmente alla storia di Harp Advice allenatore ungherese di origini ebraiche vincitore tra l'altro di due scudetti con il Bologna morto poi nel campo di concentramento di Auschwitz perché il filone, il filo conduttore diciamo di questo progetto è proprio al di là di questi incontri pubblici con i ragazzi è quello di portare avanti i laboratori incontri all'interno degli istituti per tutto l'anno scolastico sul tema della storia, della memoria quindi diciamo accanto a questi momenti importanti di confronto con i calciatori poi c'è un lavoro che portiamo avanti durante tutta la stagione all'interno delle classi è un'iniziativa variegata strutturata molto molto bene abbiamo visto con tante componenti rappresentate le storie di integrazione la storia da ricordare i racconti il presente, il passato abbiamo visto anche le immagini di Daniela Conti che abbiamo poi sentito che è responsabile del progetto per WISP è un progetto che ha ricevuto anche le attenzioni delle istituzioni viene svolto col patrocinio del Ministero del Lavoro ovviamente per quanto riguarda la città di Genova anche l'attenzione di Regione Ligure abbiamo visto nell'immagine l'assessore Matteo Rossi quindi un progetto che mette insieme tante componenti importanti della vita sociale di tutti i giorni quindi in questo caso WISP le società Genova Sampdoria che stanno anche andando molto bene quindi sono un traino davvero importante anche in questa stagione le istituzioni siamo soddisfatti però come dicevo non si ferma qua il progetto C'è stata un'altra bella iniziativa sabato scorso al Galata Museo del Mare anche in questo caso abbiamo il supporto delle immagini la giornata conclusiva del premio Duiglio Marcante Sì, passiamo dal calcio alle attività subacque alle attività di mare e non solo per noi un altro appuntamento davvero importante promosso e organizzato da WISP nazionale attraverso il proprio coordinamento attività subacque a Genova quindi nella splendida cornice non potrebbe essere che così del Galata Museo del Mare che ringraziamo per l'ospitalità sedicesima edizione di un premio e di un'isposizione dedicata proprio al padre della didattica subacquea italiana il genovese Duiglio Marcante che ha dedicato proprio tutta la sua vita ad insegnare ma soprattutto ha dedicato tutta la sua vita alla sicurezza appunto delle attività subacquee vediamo appunto delle immagini proprio del momento della giornata conclusiva vediamo in queste immagini Alberto Balbi fotografo subacqueo di fama mondiale che ha accompagnato appunto il nostro premio quest'anno che era dedicato soprattutto ogni anno c'è un filone da seguire quest'anno era dedicato all'attività di fotografia e di video subacqueo c'è stata la testimonianza in ricordo dell'indimenticabile Andrea Ghisotti fotografo, professionista e giornalista visto nelle immagini poco fa la moglie Betti che ha proprio portato una testimonianza Lucio Coccia e questo videofotografo romano ma di fama internazionale che ha appunto portato alcuni suoi lavori che vediamo proprio in queste immagini un premio è un'esposizione che vuole valorizzare proprio la promozione della salvaguardia della vita umana in mare ma non solo se pensiamo alle attività subacquee proprio del coordinamento attività subacqueo e WISP molte attività si fanno anche in ambiente lacustre in montagna, nei laghi ghiacciati quindi è divulgare appunto l'attività subacquea in tutte le sue forme il premio poi la serata è andata avanti proprio con l'assegnazione anche dei premi di un vero e proprio concorso fotografico che si è promosso con Alberto Balbi con la sua associazione Blu Cobalto e poi abbiamo avuto la consegna del premio Luigi Ferraro al brigadiere capo dei carabinieri subacquei in congedo Antonio Croce del corpo di Voltri che ha ricevuto questa testimonianza dopo 43 anni di servizio ha diretto centinaia anzi migliaia di operazioni e non c'è mai stato un incidente sotto la sua guida e poi proprio il premio marcante attesissimo quest'anno è stato assegnato al festival mondiale dell'immagine sottomarina di Marsiglia rappresenta il direttore abbiamo visto immagini dal profondo del mare tra poco andremo invece con un drone a vedere immagini dall'alto suggestive che riguardano il trial ma nel frattempo andiamo sul nostro portale Telenordor.it per il torneo studentesco AIDS Cup 2015 l'abbiamo presentato qui qualche settimana fa ci fa piacere che stia avendo grande successo perché gli organizzatori ci hanno messo l'anime assolutamente è davvero un pool di ragazzi fantastici che hanno da poco lasciato appunto le scuole superiori sono tutti universitari ma che dedicano il proprio tempo libero all'organizzazione di questo davvero campionato è vero è proprio di calcio a 11 studentesco rivolto alle scuole gli istituti superiori della città di Genova e della provincia ma i ragazzi hanno come dire ambizioni quindi stanno già lavorando per uscire l'anno prossimo dai confini genovesi vediamo proprio sul vostro portale Telenord.it la notizia appunto che il torneo sta entrando proprio nel vivo andrà avanti poi sino al mese di maggio trovate proprio in questa notizia alcune particolarità che mettono anche in risalto ma lo vediamo anche la foto quanto sia importante l'attività in campo ma ci sia come dire una parte di attenzione davvero alle tifoserie ci saranno dei premi che verranno assegnati alle tifoserie più come dire colorate ma anche più sportive davvero un torneo di calcio a 360 gradi che mette insieme poi quelli che sono i valori dell'UISP quindi sport, competizione ci mancherebbe ma ovviamente socialità voglia di stare insieme torneremo a parlarne perché seguiamo molto volentieri la AIS OASE che in genovese asino come dicevano i ragazzi qualche settimana fa quando sono venuti a presentarlo questa coppa questo torneo dedicato agli studenti delle scuole superiori andiamo ora a quanto è successo domenica scorsa perché c'è stata la seconda tappa del circuito regionale UISP di Trail Run in 2015 Lavagna possiamo cominciare a vedere le immagini e ce ne saranno davvero di molto suggestive sì davvero Maria Grazia ne parleremo spesso durante questa stagione perché è partito appunto un calendario ricchissimo l'aveva anticipato Tommaso Bisio responsabile della Lega Atletica Genovese ma anche coordinatore a livello regionale di UISP Liguria di questo calendario fittissimo quest'anno ben 19 prove di trail che metteranno insieme anche qua sport agonismo, cultura e che ci faranno vivere non solo l'ambiente marino come vediamo in queste immagini ma anche i nostri monti, il nostro entroterra domenica scorsa Marina Trail edizione zero organizzata dagli amici dell'associazione sportiva dilettantistica Marina Sporting Club di Lavagna una associazione giovane ma che sta facendo davvero già molto bene e lo vediamo da queste immagini si è partiti dal porto turistico di Lavagna ma dopo pochi minuti si era già sulle creste dell'alta via dei Monti Liguri vediamo in queste immagini davvero suggestive alcuni passaggi degli atleti tra l'altro un trail che ha portato al nastro di partenza ben 170 atleti quindi numeri anche molto importanti per questo tipo di gare una gara che si è corsa sulla lunghezza di circa 21 km pensa con un dislivello positivo di ben 1100 metri davvero un'iniziativa importante resa possibile come diceva appunto dagli amici grazie agli amici di Marina Sport Club Lavagna con la direzione tecnica di Roberto Rodio dirigente dell'associazione vera e propria anima di questa manifestazione vediamo appunto davvero immagini che si commentano da sole molto importante per noi questa manifestazione che appunto rappresenta la seconda tappa adesso dell'apertura di Arenzano con il three team trail race organizzato dall'associazione sportiva emozioni sport e tra l'altro una manifestazione che ha portato anche risultati agonistici importanti che ha visto in campo maschile l'affermazione di Paolo Bert atleta 36enne di Piemontese di Pinerolo tesserato per il team La Sportiva che è uno tra l'altro dei massimi esponenti nazionali della corsa in montagna che appunto vediamo qua tagliare il troguardo dopo solo poco più di 32 minuti mentre in campo femminile si è affermata una ligure Sonia Ceretto e dei maratoneti Tiguglio diciamo che giocava in casa complimenti per le immagini abbiamo sempre un corredo di immagini di altissima professionalità e questo è un fior all'occhiello del vostro appuntamento abbiamo solo pochi secondi per variazioni solo una cosa ancora sul trail domenica 22 marzo appuntamento a Loano con la Mare Montana www.maremontana.it un sito bellissimo dove trovare tutte le informazioni ovviamente ci ritorneremo nelle prossime settimane variazioni sabato 21 la decima edizione sala mestrale possiamo solo toccare l'argomento già ne abbiamo parlato sì assolutamente ti ringrazio dell'opportunità quindi decima edizione compleanno per noi davvero importante per questo concorso nazionale di coreografie genere ovviamente classico neoclassico moderno contemporaneo con l'introduzione quest'anno del genere danza fantasia quindi danze popolari danze di carattere danze etniche categorie baby junior e senior dalla prossima settimana presso la nostra sede di piazza Campetto in pieno centro storico di Genova la possibilità di prendere i biglietti in prevendita per quelli che saranno i due spettacoli ripetiamo sabato 21 marzo il primo nel pomeriggio a partire dalle ore 14 e alla sera a partire dalle ore 20 tutto sul vostro portale variazioni concorso di coreografia per avere ulteriori informazioni con questo grazie Tiziano Peiffer grazie a te Maria grazie a tutti i telespettatori per l'attenzione grazie a voi di averci seguito l'appuntamento con Wisp Magazine la prossima settimana grazie a tutti i telespettatori